E quindi prima di tutto vogliamo dire che è promosso dal Movimento di Focolari e United World Project e fa parte del progetto Pathways Dare to Care, come si vede. E insieme vogliamo ringraziare i nostri relatori, vogliamo ringraziare il professor Luigino Bruni, Antonio Maria Baggio e suora Alessandra Smirilli che purtroppo non è con noi adesso presente, però ci segue, la vedremo intervenire online pure. Allora prima di iniziare con questa modalità bisogna dare un po' di annunci pratici, quindi vi chiedo un po' di pazienza per questo. Prima di tutto per le traduzioni, perché ci stanno seguendo anche da tutto il mondo diciamo, quindi ci sono traduzioni in tre lingue, quattro, no tre, e vogliamo dire per chi ci sta seguendo per la traduzione una cosa tecnica, quindi lo dico in inglese perché sicuramente non mi stanno capendo in questo momento. E quindi, for translations, in the Zoom program, you can see the globe on the corner, the right corner, the bottom right corner, if you click on the globe then you would, you can choose the language that you need. This is for the English speaking people. Invece, per quelli che parlano spagnolo, chiedo scusa già che non so bene il spagnolo, però lo dico, quindi para la traduzione in spagnolo hai che ir al signo del mondo debajo, se elige l'idioma dal mondo debajo. Benissimo, quindi ci siamo per il spagnolo, spero che tutti. Allora, adesso un'altra cosa pratica, siccome chi segue su Zoom o su streaming abbiamo la possibilità del chat, si usa non per fare domande, per dire chiaramente, non per le domande, ma solo per le cose pratiche riguarda la traduzione. Se non sentite, se c'è qualcosa che non va, se si va veloce o lento, si può scrivere e subito ci faranno sapere e cercano di risolvere il problema. Invece, per fare le domande, ve lo annunciamo, spero che ci sia la slide, ecco adesso la vedete. Abbiamo trovato questo sistema che si chiama Slido, quindi chi ci segue su Zoom o YouTube troverete il link, quindi basta cliccare e entrate e ci fate la domanda e lui ci fa vedere le domande, ma anche si può, vedendo le domande, fare votare la domanda che vi piace di più, così sappiamo quali sono le domande che sono più scelte, diciamo, per velocizzare e scegliere quello che voi ci suggerite. Invece, per chi sta qui in sala, potete sempre entrare su Google, mettere Slido e poi vi viene fuori questa pagina dove vedete qui in basso c'è Enter Event Code, bisogna fare entrare il codice che sarebbe 71062. E da lì si può mettere suggerire le domande, però chi ha difficoltà di entrarci c'è la possibilità di mandare via WhatsApp a questo numero, è brasiliano, a Luisa e quindi è più 5561 9818 61001. Solo nel caso non si riesce ad entrare, però preferiamo quella modalità perché ci aiuta a velocizzare il processo. Quindi penso che le cose pratiche sono queste. Un'ultima cosa pratica, i tempi. Noi speriamo che ci rimane un po' di tempo alla fine per il dialogo. Io tutti i convegni dove sono andata, quando vedevo il moderatore dover fermare la persona, dico, dovrebbe essere difficile. E adesso mi trovo purtroppo a doverlo fare, quindi speriamo di aiutarci così riusciamo a limitare. Esatto, c'è l'orologio davanti così teniamo un occhio. Penso queste sono le cose pratiche. Adesso, prima di tutto, anche io devo dire che sono super onorata, diciamo, di stare qui vicino a tre persone, due fisicamente, uno, una lontana, però c'è con noi, che stimo tantissimo, stimo molto. E poi questa gioia è ancora più grande perché il tema che andiamo adesso ad affrontare è un tema che è molto caro a me, ma immagino che sia anche caro a tutti voi che siete presenti qua. Quindi, omnes, frates, omnes, fratelli tutti, sarebbe il titolo dell'enciclica, della nuova enciclica di Papa Francesco. Ovviamente un titolo che forse avete sentito ultimamente, che magari esclude il genere femminile, parlando di fratelli, però ovviamente non è così, perché anche la presenza di Suora Alessandra, che ci racconterà qualcosa, la mia presenza qui davanti a voi, penso che sono anche la prova di questo. Il Papa ha praticamente adottato questo termine, queste parole, da San Francesco che li usava rivolgendosi a fratelli e sorelle, cercando di proporgli una nuova forma di vita, di vita che sarebbe anche, diciamo, che ha il sapore del Vangelo. Fraternità e amicizia sociale sono questioni che il Papa ha continuato a proporre e riproporre da quando è stato eletto, dall'inizio del suo pontificato. Ma poi la scintilla ispiratrice che l'ha spinto, diciamo, a dedicare un'enciclica intera per queste questioni è stato il documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza, che è stata firmata da lui stesso e dall'imam di Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyab, che è stata firmata insieme ad Abu Dhabi il 4 febbraio dell'anno scorso. Quindi questa è stata la scintilla che l'ha mosso a fare questa enciclica. Mentre la leggevo, alcune nozioni che usa il Papa mi hanno fatto riflettere molto. Lui ad un certo punto parla di sogno di una società fraterna, miracolo della gentilezza. Quindi fraternità e gentilezza diventano classificati, vengono classificati come un sogno, un miracolo, come qualcosa che non c'è ancora. Ma è proprio questo che ci fa capire che questa enciclica non parte da una teoria, da qualcosa di astratto, non ci presenta il dovere essere come un già, ma proprio parte dalla realtà, così come è, anche se qualche volta delude. Riconosce le ombre di un mondo chiuso, come è il titolo proprio del primo capitolo. Le riporta alla memoria perché per perdonare certi orrori commessi nell'umanità non si deve dimenticare, altrimenti ci si anestetizza davanti ai dolori e alle sofferenze che ci incontriamo nel nostro cammino. Invece per perdonare bisogna ricordare, perché solo ricordando che rinunciamo alla forza distruttiva del male. E quindi adesso darei la parola ai nostri relatori. Prima di tutto, forse li presento prima di tutto a Suora Alessandra. Non so se ci sei, ci senti? Eccomi. Allora, Suora Alessandra Smerilli, prima magari dico che è un economista, docente di economia politica e statistica presso la Pontificia Universitaria Auxilium. Suora Alessandra, non so se riesci a... Eccola, sì. Allora hai 15 minuti e poi io cercherò di farti un segno quando si avvicina al momento. Grazie, cercherò di essere anche più breve, sperando che non sia una promessa vana. Vi ringrazio innanzitutto per l'invito ed è bello condividere. Come dicevo in un incontro precedente, ho solo avuto modo di leggere un po' prima l'enciclica, non mi sento più preparata di altri per fare un commento. e neanche oso avventurarmi nei temi della fraternità e dell'amicizia sociale che sono chiavi dell'enciclica perché ci sono persone al tavolo che possono farlo molto meglio di me. E quindi mi sono chiesta cosa potevo dire in questo incontro che potesse essere risultare in un invito a leggerla poi questa enciclica perché in questi giorni si rischia di avere tanti di quei commenti che alla fine neanche la leggiamo perché ci hanno già stancato i commenti. Quindi speriamo di non fare questo in questo incontro. Questa enciclica detta in una frase, mi è piaciuto un commento del Cardinal Cerni che dice se dovessimo riassumere in una frase se laudato sì ci ha detto tutto è connesso fratelli tutti, fratres omnes ci dice siamo tutti connessi e mi sembra che questa enciclica faccia parte di una trilogia che parte dall'Evangelii Gaudium, passa per la laudato sì e arriva a fratres omnes rispetto ai temi che stanno più a cuore a Papa Francesco e che hanno guidato il suo pontificato. Tutto il Magistero di Papa Francesco a partire dall'inizio e quindi sia con i gesti sia con le parole dell'Evangelii Gaudium tutto il Magistero ha denunciato con forza la cultura dell'indifferenza e dello scarto e ha invitato a guardare il mondo a partire dalle periferie quelle economiche, sociali, materiali ed esistenziali in questa enciclica vuole dipingere con realismo ma anche con speranza vuole invitare al tema della fraternità ma una fraternità che si può comprendere solo da quel gesto e penso in questo momento a Luigino e a Economio Francesco che c'è molto caro dell'abbraccio di San Francesco all'Ebroso con quell'abbraccio di quell'abbraccio ha fatto di Francesco un uomo nuovo ciò che prima Francesco risultava amaro e cioè l'accostarsi all'Ebrosi dopo quell'abbraccio fu tramutato in dolcezza ed è questo un po' credo sia il messaggio che l'enciclica ci voglia dare e per farlo io credo che dopo il primo capitolo che annunzia un po' il legge, cerca di leggere un po' il mondo contemporaneo ma non credo sia il fulcro dell'enciclica viene posto un capitolo con la parabola del samaritano che a mio parere vuole fungere proprio da interpretazione vuole aiutare a leggere il capitolo precedente e a porre le basi per interpretare quello che viene dopo e i vari cammini che vengono proposti sui vari temi migrazioni, politica, economia, pace, incontro tra le religioni le religioni a servizio della pace dell'incontro e così via a me è piaciuto molto questo capitolo e l'interpretazione della parabola il commento è fresco e vivace ma anche coinvolgente con spunti che ci aiutano ad interrogarsi il commento è un invito a forsi domande ce ne sono tante di domande nel testo a mettersi personalmente in questione prima di proseguire nella lettura dopo il confronto con la parabola non si può leggere con distacco quello che viene dopo il lettore è continuamente invitato a prendere posizione a non restare neutrale si entra nel vivo dell'enciclica da protagonisti e quindi si è invitati a diventare veri e propri promotori di fraternità per cui il mio primo consiglio a chi si appresta a leggere l'enciclica è di soffermarsi su questo capitolo di non andare oltre se non ci siamo posti le domande che ci vengono suggerite e magari farcene altre ancora per esempio al numero 64 leggiamo con chi ti identifichi a quale di loro assomigli tra i protagonisti della parabola nel 72 sarà quel ferito la giustificazione delle nostre divisioni inconciliabili delle nostre indifferenze crudeli dei nostri scontri intestini queste alcune delle domande ma ce ne sono altre e credo come ho già detto che sia bello soffermarci a farci interpellare da queste domande da quel racconto da quella parabola il passare davanti a un bisognoso di aiuto perché ferito e non essere capaci di dedicargli tempo e cura non voler perdere tempo per colpa dei problemi altrui leggiamo al 65 è un qualcosa che nella storia si ripete e forse negli ultimi anni sta diventando più evidente mi vorrei soffermare e centro il mio intervento soprattutto su questo però su un qualcosa che è scritto al numero 64 cito diciamolo siamo cresciuti in tanti aspetti ma siamo analfabeti nell'accompagnare curare e sostenere i più fragili e deboli delle nostre società sviluppate ci siamo abituati a girare lo sguardo a passare accanto a ignorare le situazioni finché queste non ci toccano direttamente sappiamo andare sulla luna ma non abbiamo imparato il linguaggio del prenderci cura gli uni degli altri sappiamo farlo forse all'interno di cerchie ristrette ma non è un'attitudine sociale eppure il lavoro e la cura sono due dimensioni fondamentali dell'essere umano che dicono chi siamo che ci rendono più umani come mai attraverso il lavoro siamo riusciti ad avanzare e a raggiungere enormi progressi e siamo rimasti indietro nella capacità di prenderci cura vorrei qui tentare un'interpretazione forse un po' ardita lo faccio in compagnia della nostra cara amica la filosofa Jennifer Nedeschi non abbiamo imparato l'alfabeto e la semantica della cura forse perché da sempre l'abbiamo relegata alla storia privata e in particolare alle donne questo ci ha portato a considerare socialmente la cura come un qualcosa di meno rilevante rispetto ad altri aspetti siamo tutti d'accordo che il lavoro ci dà dignità tanto che non poter lavorare rappresenta una sofferenza sociale oltre che economica questo non è altrettanto chiaro per la cura siamo intimamente convinti che prenderci cura di altre persone non solo quelle legate al mio gruppo alla mia famiglia sia qualcosa che ci rende degni di abitare su questa terra quando parliamo di cura chiaramente qui intendiamo l'attenzione l'ascolto il prendersi a cuore anima e corpo di chi ne ha bisogno in un dato momento aiutare una persona anziana non autosufficiente a mangiare o a vestirsi leggere delle favole a un bambino pulire degli ambienti abitati da chi non riesce a farlo e così via non parliamo di cura professionale normalmente la prima domanda che facciamo a una persona quando la incontriamo per la prima volta dopo il nome è di che cosa ti occupi che lavoro fai non le chiediamo di chi ti occupi di chi ti prendi cura la cura è di solito considerata come una distrazione da compiti più importanti quindi appaltata in genere alle donne o a persone che lo fanno al posto di altri e che devono vivere spesso miseramente di questo il fatto stesso che le remunerazioni di chi fa questi lavori siano più basse della media di altri lavori ci dice che la cura non ha una considerazione sociale elevata ci voleva la pandemia per farci riscoprire l'importanza di alcuni lavori che abbiamo relegato ai margini allora non dobbiamo meravigliarci che si passi oltre quando si incontrano feriti bisognosi coloro che ci stanno di fronte mendicando un po' del nostro tempo della nostra attenzione delle nostre carezze perché come abbiamo bisogno di una scuola per imparare a leggere e a scrivere così per imparare l'alfabeto della cura dobbiamo esercitarci e bisogna imparare fin da piccoli per farlo dobbiamo riscoprirci come persone che necessitano di questa esperienza per restare umani e per persone intendo uomini e donne curandomi dell'altro curo la mia persona la mia capacità di sentirmi reciprocità cioè di sentirmi più umana credo che possiamo vivere il messaggio che l'enciclica ci chiede di incarnare che è quello della parabola del samaritano credo che possiamo farlo se riusciamo non solo individualmente e privatamente ma socialmente a riscoprire questa dimensione del prenderci cura e credo che qui non possiamo cambiare il passato ma possiamo agire sul presente e credo che questo dipenda dalla buona volontà di tutti uomini e donne perché se siamo a questi livelli forse è colpa anche di noi donne che noi stesse non abbiamo riconosciuto l'importanza sociale di questi temi che forse ci sono più connaturali più cari ma che se non vengono offerti a tutti se non si fa esperienza di che cosa vuol dire prendersi cura siamo meno persone se non comprendiamo questo tutti i samaritani cioè le persone ferite lungo la strada aumenteranno e aumenteranno sempre di più le persone che passeranno oltre e avremo sempre più feriti lungo le nostre strade nelle nostre coscienze nelle nostre società e l'invito all'azione secondo me in questo viene anche da da un punto successivo nella parabola dove a un certo punto leggiamo i briganti della strada hanno di solito come segreti alleati quelli che passano per la strada e guardano dall'altra parte e quindi l'indifferenza diventa poi complice delle ingiustizie per cui credo e vado a chiudere qui il mio intervento che anche se non ho parlato proprio dei temi che poi vengono dopo ma perché so che chi viene dopo di me lo farà bene che questa è una chiave di interpretazione per poter leggere poi tutto il resto e anche i cammini concreti che ci vengono posti mi fermerei qui perché non voglio abusare del vostro tempo e veramente vorrei che fosse l'enciclica stessa a parlare dico solo ma penso che poi lo farete anche voi tanto si è discusso sul titolo l'enciclica in realtà mi sembra poi equilibrata nei contenuti però credo che tutto il rumore che ci sia stato intorno al titolo ci dice che ci sono delle esigenze vitali che in questo momento non possono essere messe da parte e credo che un movimento come quello dei focolari che tanto ha fatto scoprire e ha dato al mondo del genio femminile debba essere impegnato in prima persona in questo momento perché si porti a compimento quel disegno di reciprocità siamo meno l'umanità e meno umanità la chiesa e meno chiesa se non riusciamo ad avere sguardi maschili e sguardi femminili in reciprocità e quindi con questa provocazione vi lascio e vi ringrazio per l'ascolto grazie grazie suora Alessandra grazie tantissimo però prima di dire un commento voglio sapere se quelli che ci seguono di lingua spagnola stanno sentendo la traduzione perché ho saputo che avete qualche problema non so se potete fare un cenno magari lasciando un commento dice non capendo non possiamo nemmeno fare i commenti benissimo appunto ho detto magari va bene comunque le cose tecniche come sempre si possono lasciare nel ok benissimo fareanno appunto adesso non so dirlo in spagnolo però magari se parlo lentamente l'italiano si capisce che stanno facendo un restart per le traduzioni quindi se avete un po' di pazienza magari adesso si parte un po' di pazienza ok ok e poi approfitto anche per dire un'altra cosa abbiamo detto questo link delle domande si può fare like mettere like sulle domande che preferite per poter avere un sondaggio più chiaro Sora Alessandra ringrazio perché non è a caso non è per caso che Papa Francesco è partito nel secondo capitolo subito all'inizio da questa parabola lui l'ha nominata diciamo come un esempio luminoso a questo mondo che chiama che mi ha fatto impressione un mondo sordo sordo dove appunto siamo distratti siamo molto presi dalla frenesia da quello che dobbiamo fare e lui parla di urgenza distratta siamo come persone urgentemente distratti che non si rendono conto appunto di chi si passa accanto quindi questo ci limita non ci rende capaci di ascolto capaci di gettare ponti capaci di amicizie vere dove anche parla di fisicità della gestualità che sono cose concrete che senza questo cadiamo proprio nell'illusione diventano un dialogo una cosa proprio illusoria non sono non è socievolezza ma illusione invece quindi ti ringrazio tanto per aver messo questo come punto di lettura per tutto quello che verrà dopo e così andiamo avanti adesso darei la parola al professor Luigi Bruno che è economista docente di economia politica alla LUMSA grazie approfitto finché c'è solo Alessandra per ricordare che io l'ho incontrata la prima volta in un corso organizzato da Antonio Baggio quindi siamo qui tutte e tre legati anche da un inizio vent'anni fa e da quel momento non siamo più persi di vista con tanti lavori insieme che sono un pezzo importante del mio lavoro grazie per essere stata qui con noi e se puoi fermarti un po' siamo contenti ma vedi tu ecco io intanto ringrazio tantissimo Francisco Renata e i giovani di United World Project per questo invito che ho subito accolto con grande gioia e con grande soddisfazione con Antonio abbiamo fatto spesso questi momenti uno dei primi a Ginevra con Chiara che ci ha portato tutte e due per un dibattito su cose non troppo distante sempre sulla fraternità tra economia e politica quindi posso dire cose inutili come quelle che stavo dicendo ora che stanno facendo il restart io ho in questi 20 minuti siccome chiaramente la recilica è molto lunga è molto complessa e come diceva solo Alessandra è bene non farvi passare l'appetito di leggere direttamente la recilica ho preso alcuni spunti su dei temi che sento anche dove ho un po' più di cose da dire un po' di aspetti economici una battuta iniziale io ad esempio sono fra quelli che ha espresso prima che il nome fosse pubblico dei dubbi sul nome Fratelli Tutti non sui contenuti nel senso che si poteva fare un piccolo sforzo in più per un nome un attimino più inclusivo ma come sappiamo i nomi vengono scelti c'è una complessità di traduzione dal latino e c'era una frase di San Francesco con cui il Papa inizia che cominciava così Frates Omnes che condizionava la scelta del titolo però come sappiamo è stato un punto ed è un punto delicato quindi se posso partire proprio partirei da questo tema della fraternità come come sfondo generale diciamo della dell'enciclica perché la prima parola del suo discorso sulla fraternità seguo il testo anche per i traduttori che mi hanno consigliato di far così diciamo data la mia nota in disciplina nel parlare la prima parola del suo discorso sulla fraternità Papa Francesco la scrisse la sera del 13 marzo 2013 scegliendo il suo nome Francesco e molti messaggi assieme ma è soprattutto un messaggio di fraternità fratres fratelli frati sorelle suore in questi sette anni di pontificato Francesco ha continuato a scrivere molte altre parole di fraternità nelle encicliche nei documenti catechesi ma le parole più belle sulla fraternità non le ha scritte con la penna le ha scritte con i suoi gesti parole incarnate spesso mute come quello del 27 marzo 2020 quando solo e in silenzio in piazza San Pietro ci ha donato il suo secondo me il suo più bel discorso sulla fraternità non è semplice scrivere un'incitica sulla fraternità la prima difficoltà è iscritta dentro la stessa parola fraternità rimanda infatti alla relazione tra fratelli e quindi non è parola particolarmente adatta per dire una forma di legame universale che includa maschi e femmine su un piano di pari dignità e allora l'imperfezione semantica è una delle vulnerabilità della fraternità che ha molte vulnerabilità una è questa che è una parola vulnerabile anche perché nonostante l'etimologia richiami il rapporto tra fratelli maschi quando andiamo a descriverla nelle sue note e quando la vediamo all'opera ci accorgiamo subito che la fraternità presenta molti tratti propri del talento delle donne a partire dalla famiglia dove se non ci fosse una madre a mediare la ridistribuzione dei beni tra fratelli e sorelle non sarebbe la fraternità prevalere a tavola o nei giocattoli ma la legge le più forte e lungo le vie che portano alle nostre gerico a chinarsi e a prendersi cura delle vittime ci sono anche e soprattutto molte moltissime donne sono gran parte nelle case di riposo negli ospedali nei capezzali delle infinite notti delle agonie sono lì da millenni a prendersi cura di tutti come diceva molto bene molto bello quello che ha detto sulla cura sull'Alessandra sotto la croce nell'atto di fraternità più grande c'erano donne e furono le donne che andarono ad ungere il corpo del Signore nel sabato santo e non è da escludere che sia stata una donna a scrivere o almeno a cantarlo mille volte lo splendido salmo della fraternità quando forse in una sera di Pasqua una madre guardò i suoi figli riuniti felici attorno alla stessa tavola e le fiorì nel cuore quel grande canto ah quanto è bello è giocondo che fratelli siedano insieme e poi una nota che diciamo lascio l'ambiguità semantica è Chiara l'altro nome di Francesco la seconda difficoltà si trova dentro la Bibbia qui chiaramente abbiamo il maggiore esperto di queste cose accanto a me Abele il primo fratello è un assassino è assassinato da un altro fratello Giacobbe e Saul lottano combattono si separano poi Lea e Rachele le sorelle rivali Iefte cacciato via dai suoi fratellastri la tremenda violenza di Amnon su Tamar fino alle tristissime parole del fratello del figlio prodigo a dirci che la fraternità del sangue per quanto grande e spesso meravigliosa non è sufficiente per capire l'umanesimo biblico l'alleanza la fraternità diversa e universale e anche noi sappiamo che non si resta fratelli e sorelle per tutta la vita se ad un certo punto quel legame del sangue della carne già grande bello non diventa legame nello spirito e se poi non rinasciamo in questo spirito allora la fraternità non è parola semplice perché le fraternità sono molte e non sono tutte né buone né cristiane ci sono sempre state persone e comunità che in nome della loro fraternità hanno scartato e umiliato donne e uomini che non rientravano in quella loro fraternità che per chiamare alcuni fratelli hanno offeso e ucciso i non fratelli molto raramente i fratelli hanno incluso tutti i fratelli e ancora più raramente tutte le sorelle allora era importante che Papa Francesco ci dicesse subito nell'incitico nel capitolo 2 qual è la sua fraternità e lo ha fatto col buon samaritano questo ci ha già spiegato sull'Alessandra io dico solo due cose su questo cioè perché scegliendo questa parabola ha fatto una scelta di campo forte partigiana e parziale in che senso ci ha voluto dire Papa Francesco che la sua è una fraternità universale centrata sulla vittima ce l'ha detto dal suo primo viaggio quando scendendo dalla sua Gerusalemme Roma scelse Lampedusa come scoggerico una scelta partigiana e parziale perché perché l'etica del samaritano è certamente una base solida e inequivocabile per una civiltà della prossimità e della misericordia ma è meno ovvia come fondamento di un'etica della fraternità perché le manca la dimensione della reciprocità Luigi non devo interrompere un attimo solo per la traduzione sempre l'argomento della traduzione for english ok so if you need translation there's the globe on the corner the bottom right corner of the screen on zoom you see a globe if you click on the globe then you would see the languages and you can select in spagnolo un attimo fare la traduzione in spagnolo hai che ir al signo del mundo debajo e poi se elige il idioma se è chiaro spero spero che adesso funzioni se no sempre potete contattare scusate l'interruzione no scherzo grazie quindi gli stava talmente a cuore a Papa Francesco annunciare la sua fraternità legata al buon samaritano che ha fatto una scelta parziale perché nell'etica del samaritano non c'è la reciprocità che è fondamentale nell'etica della fraternità tanto che il buon samaritano è stato sempre usato come etica della prossimità e come etica della pietas delle viscere della misericordia ancora non era stata usata per la fraternità perché la fraternità non è solo il contenuto dell'azione dell'individuo non è soltanto un comando rivolto a ciascuno di noi preso da solo la fraternità è anche e forse soprattutto e qui anche ciò che ci ha insegnato Chiara in questi anni un comando che ci viene rivolto in quanto comunità chiesa umanità è un verbo coniugato nella forma plurale amatevi gli uni gli altri e invece la parabola del samaritano non parla di fratelli né è direttamente interessata a qualche forma di azione reciproca c'è una vittima ci sono due individui separati che passano oltre c'è un terzo il samaritano che si china e si prende cura di quella persona mezza morta ma tra i vari protagonisti non scatta una forma di interazione reciproca se si eccettua che il papa poi la cita quella tra il samaritano e l'albergatore che è l'unica reciprocità commerciale della parabola questo mi interessa come economista poi se c'è un minuto lo dico alla fine perché allora il papa sceglie questa parabola poco adatta secondo il mio umile punto di vista perché manca la dimensione dell'interazione perché la sceglie per fondare la fraternità e perché ha trascurato di fatto tutti i riferimenti biblici della fraternità per scegliere questo dove sta allora la perla di questo racconto di Luca talmente preziosa da vendere ogni altro tesoro per comprarla io vi dico quello che penso io certo penso io è chiarissimo però insomma ve lo anticipo lo leggete da soli fratelli tutti ce lo dice molto chiaramente la scelta della parabola del buon samaritano è essenziale per il papa per annunciare una fraternità incentrata sul contrasto tra essere prossimi ed essere vicini questo è un tema che il papa spiega in tutti i modi cioè la fraternità non è la vicinanza e cioè che significa chi si cura chi si prende cura di questa della vittima non sono i vicini perché come sappiamo dalla storia i due più vicini alla vittima per motivazioni religiose perché viene detto dal testo era giudeo la vittima quindi in quanto giudei in quanto funzionari del tempio quindi gli addetti al welfare in quanto abitanti del luogo i più vicini erano il levita e il sacerdote erano più vicini ma non diventarono prossimi chi si chinò sulla vittima fu invece più lontano da ogni punto di vista religioso etnico geografico e forse come si intuisce dal testo passava anche nella direzione opposta della strada i due si imbattono lui ci va i due ci trovano di fronte lui invece si getta sulla vittima quindi divenne prossimo il più lontano e quindi dice il Papa con una forza in quattro numeri da 67 a 70 non c'è più distinzione cito tra l'abitante della Giudea e abitante della Samaria non c'è sacerdote né commerciante semplicemente ci sono due tipi di persone quelle che si fanno carico del dolore e quelle che passano a distanza quelle che si chinano riconoscendo l'uomo caduto e quelle che distolgono lo sguardo e affrettano il passo e qui il Papa trova un alleato implicito in Amartya Sen questo premio Nobel grande filosofo contemporaneo che commentando con la parabola del buon Samaritano nel suo libro del 2010 l'idea di giustizia dice esattamente questo il prossimo non è il vicino e quindi l'etica del Samaritano ci dice che la prossimità la fraternità non è legata alla all'essere vicini di casa all'essere prima gli italiani a essere prima gli americani cioè il prossimo non lo fa la vicinanza lo fa l'essere vittima e allora qui c'è c'è un messaggio che per il Papa è fondamentale talmente importante che prende questa parabola come unico riferimento biblico perché lo capite diventa la pietra angolare del suo discorso sui migranti molto forte sul populismo il Papa ama il popolo e quindi è molto critico del populismo perché il populista usa il popolo e non lo serve quindi il tema della piena di morte il tema di cui non dico nulla il tema della guerra giusta che viene definitivamente cancellato dalla dottrina sociale della chiesa come tema che non fa più parte oggi di un'autentica interpretazione di questo del tema della guerra e della pace allora e critica anche tutto il tema del comunitarismo dei noi che nel numero 89 è molto forte i gruppi chiusi e le coppie autoreferenziali che si costituiscono come un noi sono di solito forme idealizzate di egoismo cioè non è la vicinanza religiosa comunitaria etnica a fare la fraternità e quindi la sua è una fraternità basata sulla vittima e la condizione come dice appunto in questo bellissimo passaggio a Marzia Sen a stabilire un vincolo di fraternità di prossimità dice lui tra i samaritano e l'israelita ferito sono gli eventi stessi è la vittima che crea la fraternità non la vicinanza e poi l'incidica chi di voi è interessato ai temi dell'economia dedica un significativo spazio all'economia al mercato alla proprietà privata al tema della priorità del primato della destinazione universale dei beni rispetto alla proprietà privata questo era un tema su cui insomma qui Antonio potrebbe farci una lezione più di una cioè la Chiesa ha sempre riconosciuto che c'è che viene prima la destinazione universale dei beni e dopo ad un secondo livello gerarchico di importanza etica e spirituale la proprietà privata dei beni però ce lo siamo un po' dimenticati questo abbiamo addirittura dichiarata sacra la proprietà privata in certe dichiarazioni anche diciamo in ambienti cristiani e Papa ridice in modo molto forte che c'è prima la destinazione universale dei beni e quindi arriva la proprietà privata e lui dice dice il Papa cito in questa linea ricordo che la tradizione cristiana non ha mai riconosciuto come assoluto o intoccabile il diritto alla proprietà privata e ha messo in risalto la funzione sociale di qualunque forma di proprietà privata e poi addirittura si parla anche del mercato nella fratelli tutti al numero 168 e seguenti cioè dice appunto ci sono vari riferimenti alla pandemia alcuni forti riferimenti alla pandemia sono dentro il suo discorso sul mercato e dice il Papa 168 ripeto la fragilità dei sistemi mondiali di fronte alla pandemia ha evidenziato che non tutto si risolve con la libertà di mercato cosa vuol dire questo che noi stiamo guardando alcune cose in questi mesi ma laddove abbiamo trattato la salute delle persone come un bene privato la popolazione e gli stati hanno sofferto e soffrono molto soprattutto i poveri stiamo imparando con la pandemia che ogni essere umano ha un bene comune se tu consideri la salute individuale un bene privato questa persona si ammala contagia altri e automaticamente il bene privato è finito abbiamo riscoperto che ogni persona va trattata come un bene comune e lo devi guardare così e non come una faccenda sua personale la salute che cura si è assicurato eccetera e quindi c'è un urgente bisogno di ripensare il rapporto tra mercato comunità beni comuni e beni pubblici dopo la pandemia questo il Papa lo dice in modo molto forte poi come dicevo all'inizio il Papa dice rivaluta questa figura trascurata della parabola perché questo albergatore non viene mai commentato da nessuno cioè sta lì nel 735 abbandonato alla fine del capitolo invece dice il Papa cito che io siccome a me mi piacciono molto le cose marginali anche il buon samaritano ha avuto bisogno che ci fosse una locanda che gli permettesse di risolvere il suo problema cioè a me piace tantissimo l'economista che nella parabola forse più bella del tra le più belle ma le più belle è difficile tra le più belle dei Vangeli ci sia dentro un commerciante che fa il suo lavoro e che viene che viene messo sull'arca di Noè sull'arca del samaritano anche un locandiere che poi come dice Fradio Giuseppe qui c'è vedo Joseph i locandieri erano indicati nell'antichità come il mestiere peggiore i più disonesti in assoluto perché si consideravano degli imbroglioni per mestiere che mettevano l'acqua nel vino che derubavano di notte i viandanti e ci mette proprio un locandiere a cui dà due denari e dice prendetene cura al mio ritorno ti darò il resto e nasce quindi nella fraternità è preso è preso è preso a bordo un imprenditore quindi svolgere il mestiere di imprenditore non impedisce di svolgere il mestiere di essere umano e di essere fratelli quindi c'è questa poi concludo perché il tempo sta finendo c'è nell'ultima parte dell'enciclica ci sono vari riferimenti alla pena di morte e alla guerra giusta il Papa dice oggi affermiamo con chiarezza che la pena di morte è inambissibile e la Chiesa si impegna a proporre che sia abolita in tutto il mondo cioè si sapeva però bene leggere lo scritto e quindi io qui faccio il mio piccolo commento insomma anche in un contesto perché questa è piena di riferimenti all'Islam questo patto di fraternità del 4 febbraio col grande imam ad Abu Dhabi è citato più volte nell'enciclica e il Papa lo mette come uno dei passaggi fondamentali per scriverla e quindi mi piace anche a me ricordare un passaggio che a volte viene anche qui trascurato che è la versione che c'è di Caino e Abele nel Corano che è molto bella perché chiaramente questo nessuno tocchi Caino è la base anche biblica della non pena di morte cioè Caino omicida che non può essere ucciso ma nella nella Bibbia i due fratelli non parlano fra di loro nella Bibbia ebraico-cristiana nel Corano invece parlano nel Corano nella nella famosa Sura 5 dice Abele al fratello a Caino nei campi anche se userai la tua mano per uccidermi io non userò la mia mano per uccidere te quindi Abele come il primo non violento che muore per non diventare assassino quindi è forte come immagine della quindi la fraternità è mite come Abele e come i tanti mansueti che hanno preferito lasciarsi uccidere pur di non diventare fratricidi perché se il primo omicidio fu un fratricidio ogni omicidio è un fratricidio questo sono soltanto alcune battute ho anche dovuto scrivere questa prefazione per l'edizione delle paoline dell'enciclica quindi ho dovuto studiarlo un pochettino un po' prima l'ho molto l'ho molto apprezzata mi è piaciuta molto si vede chiaramente dove il Papa ha aggiunto delle note a penna col suo stile molto diretto molto bello molto da Francesco che sono secondo me le pagine più luminose è bello tutto però si vede chiaramente la parte di redazione il contesto si sente Francesco si sente in questi passaggi che in parte ho voluto citare nel Samaritano in questa enfasi forte sulla prossimità biblica chiudo dicendo questo noi nella Bibbia sappiamo che la parola che usa che usa Caino quando torna dai campi in ebraico è Shomer non sono io custode Shomer ma custode diciamo Shomer come sapete è anche la parola che usano i profeti per dire la sentinella Isaia Shomer quanto manca al giorno è la stessa parola quindi come dire i profeti è l'anticaino è il custode e quindi Papa Francesco continua profeta di oggi a svolgere la sua funzione di sentinella a essere custode di Abele per cercare di salvarlo ogni giorno dal gesto di Caino suo fratello grazie benissimo anzi voglio ringraziare prima di tutto per questo perché è rimasto dentro il tempo previsto quindi grazie mille e grazie per questa spiegazione che ho trovato molto interessante sulla fraternità che non è vicinanza non è vicinanza religiosa culturale etnica non si parte da lì questo mi ha fatto ricordare quella cosa cioè mi hai spiegato quella citazione dove il Papa praticamente spiega la differenza tra fraternità e solidarietà perché appunto la fraternità non si usa più nel linguaggio politico economico dei nostri tempi viene sostituita da solidarietà però lui ha voluto precisare e adesso mi è più chiaro perché dicendo mentre la solidarietà è il principio di pianificazione sociale che permette ai diseguali di diventare uguali la fraternità è quello che consente agli uguali di essere persone diverse quindi non è la somiglianza la vicinanza ma dove ciascuno può rimanere diverso ma anche costruire questi rapporti di fraternità quindi anche l'ultimo commento sul Corano il Papa veramente dedica un capitolo intero sulla sulle religioni dove non va sfruttata la religione contro la fraternità ma è lì è la base per la fraternità e quindi adesso prima di dare la parola al professore Antonio Maria Baggio ricordo le domande sempre nel link e che si possono fare si possono fare like per avere il numero diciamo di domande che interessano di più quindi la parola al professor Antonio Maria Baggio che è docente di politica a Sofia all'Università Sofia filosofia politica per specificare Sì grazie bene grazie certamente a sola Alessandra e al professor Bruni e a Luigino per questo commento originale e che ci aiuta a entrare in alcuni aspetti io vorrei continuare in in questo stile cercando di offrire come il titolo della nostra riunione dice delle chiavi di lettura quindi più che entrare in singoli contenuti vorrei offrire degli strumenti per quanto possibile diciamo quindi farò delle osservazioni io ne ho preparate ho preparato vari di questi strumenti di una cassetta degli attrezzi per entrare nell'enciclica e quando è finito il tempo mi fermate e quindi quelli che sono riuscito a dire li ho dati e gli altri per un'altra volta diciamo allora alcune osservazioni anzitutto il Papa Francesco è uno dei pochi nel nostro tempo a vedere il mondo con una visione globale non strategica non strategica nel senso che anche in economia anche in politica si deve vedere il mondo nella globalità però sempre per sviluppare una strategia nel senso dello stratega che ha un obiettivo di conquista di vittoria di risultato ci sono anche i coloro che sono diciamo volti al bene che cercano di sforzarsi in questo però fra questi secondo me Papa Francesco si distingue per la pluralità delle visioni e degli accessi questa stessa enciclica che raccoglie in pratica tutto ciò che il Papa ha detto in questi anni forse perché sente l'esigenza diciamo di dare una visione del sistema del tracciato del pensiero che egli ha essendo stato accusato fin dall'inizio di fare discorsi improvvisati episodici e io ricordo un editoriale di Nuova Umanità del 2013 quando già il Papa dopo pochi mesi era sotto attacco Nuova Umanità si chiedeva ma sarà questo il Papa della fraternità perché ce n'erano i segni noi poi eravamo stati come dire messi sulle tracce della fraternità fin dal febbraio del 2000 da Chiara Lubic quando nella scuola Abba tirò fuori la fraternità come scoperta la fraternità non l'abbiamo scoperta c'era ma con una luce nuova per cui eravamo tutti proprio come corpo sensibili a quello che sembrava come dire avvicinarsi come sensibilità del nostro tempo allora si capisce l'esigenza del Papa di mettere insieme le cose di collegarle di spiegarle di più con gli elementi originali che Luigi ci ha detto veramente suscitando grandi interessi adesso diciamo allora il tentativo che gli fa è quello di considerare tutta la complessità del mondo contemporaneo dei problemi alla luce della fraternità più volte dice c'è in preparazione una o più ci sono in preparazione delle guerre ha davanti a sé i soggetti sociali che nel mondo sono più tormentati quindi è una persona che nella propria interiorità è disposta a vivere nell'emergenza è disposta a privarsi perché quando tu hai in cuore qualcuno che soffre ti privi come questa persona che soffre di quello che invece per gli altri può sembrare normale quindi ha un pensiero globale pronto alla crisi e questo è moltissimo perché non è che tutti hanno un leader il nostro leader è Gesù ma hanno qualcuno che diciamo interpreta la sua parte in questo modo e con questa competenza spero di avere il tempo di dare un esempio della competenza perché il Papa parla con semplicità ma se noi studiamo i suoi discorsi quando affronta una tematica o quando usa un concetto noi vediamo che aprendo quello che dice c'è una struttura di pensiero molto solida e quindi vediamo se riusciamo a farlo perché a volte contesti anche così lunghi si è tentati di dire ma questo l'aveva già detto attento sta declinando la cosa da un altro punto di vista non lo è perché non è che ami ripetersi sta facendo una cosa nuova quindi è pronto alla guerra per così dire ad affrontare situazioni estreme e questo spiega perché la fraternità sia il suo punto di vista cioè quel punto che sceglie per vedere meglio l'universale perché la fraternità è l'unica possibilità che ci resta quando tutto ci viene tolto quando non c'è assicurazione dei diritti non c'è libertà non c'è uguaglianza non ci sono risorse alla fine possiamo solo scegliere se accettarci come fratelli oppure no allora non è casuale questa scelta è anche come scelta mette in luce la risorsa esistenziale ed intellettuale che noi abbiamo come esseri umani perché poi qualunque sia la gerarchia tra di noi anche di paternità di figliolanza di sponsalità quando non c'è più nulla scatta che cosa l'orizzontalità allora se uno sta bene serve l'altro se uno sa gli comunica qualcosa chi è forte porta scatta tutto un mondo di possibili relazioni di cura di custodia di soccorso di aiuto però la relazione fondamentale che lo permette è la relazione di fraternità allora c'è una ricerca intellettuale vasta prima di fare questa scelta non è così intuitiva e chissà a Sofia lo facciamo perché quest'anno comincia la laurea in scienze politiche specifica con due indirizzi uno dei due indirizzi è proprio la fraternità nella res pubblica l'abbiamo fatto prima dell'enciclica naturalmente l'anno prossimo uno dei corsi si intitola proprio dominare o custodire poi c'è il seguito e sarà fatto dalla professoressa Sara Felli che ha fatto una tesi splendida sull'idea del custodire che è fondativa della cura perché come centro di ricerche politiche adesso a tre anni stiamo sviluppando un rapporto con un insieme di cooperative che lavorano nel settore sociale e sanitario il dramma del personale sanitario faccio un accenno in un testo per nuova umanità dell'ultimo numero un'infermiera che ha sofferto perché e l'ha sofferto come un'ingiustizia politica perché il modo in cui morivano gli anziani lei era responsabile di alcune residenze per anziani il modo e la velocità con cui morivano impediva di accompagnarli non c'era cura perché la cura non è il fondamento non c'era cura ma lei era abituata quando non c'era più nessuna cura a stare a stabat a stare come straziata a custodire allora l'avere impedito questo non essere attrezzati per questa cosa turbava il suo equilibrio quindi ecco perché come Luigino ha sottolineato Caino risponde non sono lo showmare di mio fratello è perché l'essenziale è la custodia tu accetti che ci sia oppure no quindi come primo punto già la scelta di questo tema posto in questo modo che ci è stato illustrato adesso da Alessandra e Luigino che troveremo nell'enciclica è un'avventura intellettuale non è per niente improvvisato ha dietro studi ha dietro ricerche da stimare io proporrei adesso siccome tutti cominceremo dal primo capitolo immagino c'è sempre qualcuno che comincia dall'ultima pagina perché dice voglio sapere chi è il colpevole così sto tranquillo e leggo ecco e però questa volta rimarebbe deluso perché questa enciclica pur essendo come diceva Luigino diciamo si vede il lavoro redazionale quando si vede vuol dire che la stesura non è perfetta ma difficilmente si poteva fare una stesura perfetta perché il Papa ha un sistema di pensiero globale ma non è chiuso e quindi lo stesso pensiero si apre continuamente io mi immagino chi avrà cercato di mettere in ordine i suoi appunti sarà diventato matto perché è come quando vuoi chiudere una cosa in una valigia c'è un calzino che spunta una camicia che hai schiacciato all'inizio e alla fine il Papa sviluppa il pensiero critico cioè la critica delle ideologie e dell'ideologia nel primo capitolo vediamo che è tutto un susseguirsi di terminologia critica quando parla di risvegliarsi dall'essere intorpiditi del disinganno dell'incontro con la realtà di andare di andare oltre l'apparenza tutto un capitolo durante il quale prende in rassegna i grandi temi della contemporaneità per che cosa? Per criticarli dice ma com'è che questo Papa si accanisce così a lungo per una cinquantina di capoversi su questo esercizio ecco cerchiamo di vedere la tessitura nascosta il tappeto da sotto per quanto per quanto è possibile non c'è in questa enciclica sono otto capitoli una breve introduzione una preghiera finale non c'è un capitolo sui giovani uno poteva anche chiederselo no? Cioè quando tu scrivi un testo dove presenti progetti che sicuramente dureranno più della tua esistenza o hai qualcuno a cui affidarli o difficilmente sei credibile cioè tu devi scegliere il soggetto che li continuerà e non può essere così astratto devi sapere a chi parli a me è sembrato che non c'era il capitolo perché il riferimento ai giovani in maniera implicita o esplicita è costante in tutta l'enciclica proviamo a guardare da questo lato e vediamo che sono presenti continuamente io sono rimasto molto colpito quando già nel numero due nel numero uno per esempio fa una scelta interessante il primo paragrafo parla di fraternità aperta poi userà anche espressioni fraternità universale dentro però fraternità aperta al numero uno è essenziale perché perché annuncia che la fraternità è sì universale ma lo diventa e poiché si chiude continuamente perché deve definire i fratelli quindi se arrivi tu che sei nuovo dico anche tu sei con noi però questo noi si deve aprire di nuovo quindi la fraternità aperta indica un processo dinamico continuo per il papa il lavoro non è mai concluso lo dice più volte dentro l'enciclica riferito a varie situazioni il processo di inclusione continua e subito dopo parla dell'amicizia sociale ora questo tema dell'amicizia sociale come Luigino ha sottolineato è una costante e il papa lo usa anche come concetto che scardina le relazioni illusorie o le relazioni imposte o le visioni ideologiche o di quelle che sono i potenti a stimolare no? perché? perché l'amicizia sociale implica un incontro con l'altro e per il papa l'altro è la realtà la fraternità è anzitutto un principio di realtà io ho scelto i miei amici facendo qualche errore probabilmente ho scelto la mia sposa ma non ho potuto scegliere le mie sorelle quindi la fraternità è un principio di realtà che dice guarda esiste qualcuno e non è di peso da te che sia venuto al mondo e fa parte della realtà che tu dovrai vivere e Caino infatti non lo accetta non accetta di essere definito come fratello di qualcuno mentre prima era solo il figlio vive l'altro come una limitazione invece di comprendere che Abele diceva di lui qualcosa che non era mai stato detto era una ricchezza non era un'occupazione di spazio ma qui rientrano le scelte fondamentali dell'esistenza perché i giovani? perché io ho sentito il Papa ero lì a Lavana a Cuba nel 2015 quando rivolgendosi ai giovani che erano di diverse provenienze propose l'amicizia sociale come un progetto di giovani disposti a scegliere di non lasciare un'isola che in quel momento non dava grandi prospettive ai giovani quindi di accettare l'incertezza per mettere in comune con gli altri i propri sogni dentro i sogni ci sono gli ideali c'è il fatto di poter comunicare quindi di stabilire relazioni non controllate e lo diceva Cuba dove non è contemplata la possibilità di un sociale che si organizza quindi la capacità eversiva di questo concetto è enorme nelle situazioni contemporanee ma non si può nascondere la sua antichità il Papa parla di amicizia sociale perché per lui il sociale è il fondamento la politica poi nasce dal sociale come forse vedremo se avremo tempo Aristotele usava amicizia politica per dire qual è il legame che fa di noi dei cittadini noi tre siamo amici e questo è il legame di amicizia ma qual è il legame che ci fa cittadini e dice è l'amicizia politica una forma di amicizia basata sull'utile perché dobbiamo costruire una comunità che ci permetta di vivere ma dove l'utile è molto alto non è qualcosa di materiale è il bene comune vuol dire che siamo disposti noi tre a rinunciare al nostro bene diretto che posso sempre raggiungere privatamente per vivere politicamente cioè per raggiungere un bene che solo insieme possiamo raggiungere e per Aristotele questo bene è la vita buona non sono le cose la relazione è più importante di ciò che ti fa ottenere è un paradosso il Papa questo lo sa non è che improvvisa altrimenti non si spiegherebbe l'estrema coerenza dei concetti e dei discorsi quando io sento dire critiche così come se il Papa fosse uno che parla al bar io non chi critica così non mi dice chi è il Papa mi dice chi è colui che critica e noi dobbiamo avere stima di questa persona ecco allora qui mi sono segnato dei punti collegati con questo qui parla dell'amicizia sociale e ai numeri 13 e 14 poco dopo vi dico questo perché scusate avevo interrotto prima il filo l'enciclica comincia e finisce con la critica all'ideologia perché dal numero 206 ricomincia con la critica quindi è come un processo di inclusione come l'ha dotato nei testi antichi che l'inizio e la fine si chiudono la prima parte della critica serve per togliere il velo e dire guardiamo la realtà e adesso la vediamo alla fine vediamo se ci arriviamo allora una prima diciamo un primo esempio dice è così che funzionano le varie ideologie quindi di tutti i tipi il papa usa ideologia qui in senso tecnico cioè in senso filosofico anche questo dovrebbe dire qualche cosa della tecnicità del suo discorso che apparentemente è semplice perché al bar si dice ideologia in che modo in maniera così sproveduta quello ha un'ideologia buona quello ce la cattiva per il papa il pensiero ideologico è di per sé un pensiero malato un pensiero sbagliato perché è globale è strutturato per dare risposte ma noi gli esseri umani viviamo di domande io a Bele chiedo a Keino ma tu mi accetti è fondamentale ma tu mi ami ma tu mi ascolti Gesù abbandonato grida una domanda e quella domanda per noi è criterio di interpretazione della consistenza della realtà delle cose era veramente uomo Dio veramente ha fatto sua la nostra vita e il mondo è cambiato quindi una struttura di risposta è una struttura di possesso quando io produco un concetto e do una risposta possiedo quello che ho fatto ma quando domando sono nelle mani di colui che risponde allora il Papa dice le ideologie funzionano tutte così distruggono tutto ciò che è diverso cioè tutto ciò che non cade dentro il sistema di risposte lo eliminano allora in questo modo possono dominare senza avere nessuno che si oppone l'ideologia si sostituisce all'etica l'etica è l'esercizio che noi facciamo di scegliere distinguere il bene dal male dico questo è un bene oggettivamente ed è un bene per me e quindi c'è una coscienza personale che sceglie l'ideologia non la vuole questa perché non puoi essere tu a scegliere le risposte allora il Papa fa questo discorso in mezzo a tutto il primo capitolo e aggiunge per dominare senza opposizioni per raggiungere questo scopo chi fa le ideologie ha bisogno di giovani che disprezzino la storia che rifiutino la ricchezza spirituale e umana che è stata tramandata attraverso le generazioni che non conoscano che ignorino tutto ciò che li ha preceduti la cosa interessante è che qui sta parlando di forma di colonizzazione e se la colonizzazione è questa non è più una colonizzazione di territori o di esseri umani in quanto forza lavoro di cui parla continuamente nell'enciclica la schiavitù è sempre presente questa è una colonizzazione culturale la chiama lui colonizzazione delle coscienze quindi il suo discorso rivolto prima di tutto ai giovani è di liberare la coscienza e attenzione non è una forma generica di subordinazione quella di cui il Papa parla ma una forma di dominio specifico questa ideologia domina in questa maniera e tu devi capire come fa per liberartene per questo a Sofia in alcuni corsi noi partiamo dalle parole originarie perché se un giovane viene e dice io credo nella giustizia ma chi ti ha parlato di giustizia cosa intendeva quando te l'ha detto giustizia significa che puoi ammazzare che hai commesso qualche colpa oppure rispetti quello che Luigi diceva poco fa del Papa il rispetto della vita allora tu risali e vedi quando è iniziata questa cosa e così tu ti liberi perché fai la storia dei concetti e vedi gli antenati tuoi e soprattutto gli antenati dell'altro è così che fai tuo l'insieme e realizzi quello che Chiara chiamava l'uomo mondo la persona mondo intellettualmente quindi c'è questo processo di liberazione che è una cosa strepitosa va riletta continuamente questa enciclica perché è ricca in questo senso allora c'è una specificità della subordinazione della colonizzazione devi conoscere la logica specifica con la quale questi si rivolgono a te per farti fare questa cosa questo è uno dei punti ce ne sarebbero tanti diciamo adesso io magari ve ne cito un altro soltanto ecco qui che è simile a questo perché non si possono dare troppe cose diverse contemporaneamente verso la fine del primo capitolo scrive il Papa oggi si dimentica una cosa importante non c'è alienazione peggiore che sperimentare di non avere radici di non appartenere a nessuno appartenere può significare tante cose lo schiavo appartiene al suo padrone sì ma io appartengo alla mia famiglia io appartengo a quest'opera appartenere può essere l'appartenenza che dà senso e che garantisce la libertà nell'antichità il figlio era libero perché apparteneva a una famiglia di gente libera si è fatta strada un'idea di libertà che è la libertà dai legami la libertà negativa io non sono questo non devo qualcosa a quest'altro in questa maniera si crea una visione di libertà che è illusoria faccio solo questo esempio per dire che il Papa usa 55 mi pare paragrafi per addestrare se uno va dentro fa un training di tutte le illusioni che siamo chiamati a debellare diciamo da soli mai sempre con l'aiuto dell'altro perché se l'altro mi irrita mi urta mi presenta uno spigolo vuol dire che io ho qualcosa che si lascia colpire e quindi devo andare a vedere cos'è noi lo sperimentiamo nella nostra vita grazie a Dio sempre ecco ora in questo modo delle radici ho già finito questo sarebbe l'ultimo era il primo lo dico l'esempio che volete i primi saranno gli ultimi finisco soltanto questo allora l'assenza di radici qui viene introdotto dal Papa con intelligenza abile ma non è che lui sta facendo un trucco non è che sta facendo una piccola tattica sono i concetti che lo richiedono sta introducendo un grande tema che è quello della responsabilità cioè non avere radici da dove vengo responsabilità nel senso che chiedo chi c'è prima di me chi mi ha fatto e quindi è la domanda che porta al padre e alla madre allora introduce qui l'idea che deve essere poi sviluppata che se dico sorelle fratelli dico genitori lo spagnolo ci aiuterebbe no? lo spadres non si fa differenza no? ecco come anche il portoghese ecco più complicato è in italiano in francese ma qui si annuncia che cosa? l'amore di Dio che ti ha generato di un Dio che è padre da una parte e l'assunzione di responsabilità da parte dei fratelli perché la fraternità è una forma di reciprocità che ha contenuti non simmetrici c'è il fratello più grande che si occupa del più piccolo il fratello che sa che aiuta a fare i compiti no? ecco e qui Luigi sulla reciprocità e le sue forme potrebbe dire molto no? lo sottolineo questo non per fare i complimenti perché questo fatto di dirsi tu sai questo tu sai quest'altro sottolinea che veniamo dalla scuola di Chiara che ci ha ci ha introdotti a sapere cose che per lei erano importanti e che noi dobbiamo mettere sempre di più in comune cosa alla quale forse dovremmo dedicarci di più ecco quindi ho qui davanti a me padre Fabio quindi ecco questo non è è il desiderio no? di fare questo Fabio ecco allora concludo dicendo che il Papa fa un'enciclica sulla fraternità per parlare della paternità di Dio e ricordo una volta durante la scuola Ba che a un certo punto Chiara ha esclamato leggendo una nota di Spiedlich che si riferiva ma la nostra il cristianesimo è la religione del padre siamo stati troppo davanti al figlio il figlio ci ha fatti fratelli quindi abbiamo Gesù che è accanto a noi non siamo dentro di lui dobbiamo guardare il padre quindi se non vediamo il padre non siamo neanche fratelli questo ha una traduzione nel sociale e nel politico perché il padre che noi conosciamo non è il padre dominatore il padre che si pone in verticale sopra di te è il padre che risuscita l'abbandonato quindi è il principio generatore della fraternità quindi teniamoci stretto questo Papa che dice queste cose poi le imperfezioni del pensiero quelle sono normali perché perché se uno si espone e ti espone anche il modo particolare in cui ha capito le cose ma la cosa importante per noi è distinguere il kairos in quello che lui dice cioè il perché il Signore Dio lo ha scelto lo ha eletto per noi e dunque capire il tempo giusto nel quale lui ci dice questa parola quindi non ascoltiamo i facili critici siamo degni di lui andiamo nella profondità perché sa delle cose che Dio gli ha affidato e che a noi servono come figli in questo caso lui fa la parte del padre ecco mi spiace che ho consumato tutto il tempo sulla prima cosa c'erano tutti questi foglietti un'altra cosa allora grazie per questi strumenti perché chi non ha letto ancora l'enciclica penso che penso che mi sarebbe aiutato tantissimo conoscere queste cose prima perché da appunto chiavi di lettura questi strumenti sono proprio chiavi di lettura anche se solo il primo ma basta quello veramente la cosa che abbiamo ricevuto abbastanza domande quindi penso che si può integrare anche un po' con le domande che sono arrivati abbiamo visto quelli che sono più votati purtroppo non c'è Suora Alessandra Smerilli era la più votata sicuramente no diciamo le domande penso che sono generiche nel senso può rispondere chi sente che Suora Alessandra era mia studentessa alla Gregoriana e commise l'errore di parlare dell'economia di comunione da lì è nata questa cosa e quindi non so io leggo la domanda e poi ci aiutiamo vi aiutate allora la prima domanda quella più votata è stata il valore particolare della donna rappresenta il rimedio per particolari malattie della cultura moderna Edith Stein nel 1928 qua dice questa questa citazione proprio il valore particolare della donna rappresenta il rimedio per particolari malattie della cultura moderna quale rimedio rappresenta nel 2020 questa è una citazione che è stata detta scritta da Edith Stein nel 28 nel 2020 c'è chi può rispondere veramente o Florence sicuramente o raccogliamo qualcuna ma facciamo ok facciamo la seconda e la terza c'è un'altra non per rispondere alla prima metterne un po' insieme ok benissimo allora esatto benissimo poi c'è un'altra per quanto riguarda la fraternità universale Papa Francesco si riferisce alla spiritualità dell'unità e all'ontologia trinitaria la comprende in modo diverso da Chiara un po' difficile che pensi proprio esattamente a quello poi riguardo alla proprietà privata e sulla destinazione universale Tommaso D'Aquino dice che non è contraddetto ma è necessario esercitare la libertà che ne pensate? puoi leggere l'ultima domanda per piacere proprietà privata e sulla destinazione universale Tommaso D'Aquino dice che non è contraddetto ma è necessario esercitare la libertà diciamo due parole proprio ciascuno su questo Antonio poi c'è un'ultima cosa sull'economia di comunione chiedono se ci sono azioni cosa possono offrire come azioni concreti il MPPU e l'economia di comunione alla chiamata di Francesco questa potrebbe essere una cosa più di esempi concreti noi stiamo organizzando l'economia di Francesco quindi qualcosa stiamo facendo per lui come economia di comunione insomma non basta ma è qualcosa ma giusto due battute intanto grazie per le domande che sono chiaramente domande siccome non sono presenti chi fa le domande esistendo sempre a finire il tempo e si va si va via no solo ma molto bella quella frase di Edith Stein anche perché detta nel 28 in un periodo anche dell'Europa particolare si tolgo io sono convinto che sia ancora una non è che noi ci possiamo accontentare di quanto l'umanità ha già fatto per riconoscere lo specifico contributo delle donne perché ci sono ancora intere parti del mondo dove questo specifico contributo non è abbastanza riconosciuto e anche laddove è riconosciuto esempio che mi occupo un po' di economia io vedo che ancora tutto il mondo economico aziendale imprenditoriale è molto costruito a immagine e somiglianza del modo maschile di vedere la produzione organizzazione il lavoro anche se tante donne lavorano dentro e fanno anche le manager ma sono ospiti di un mondo che non hanno pensato loro quindi è ancora una frase profetica cioè per questo credo che è stato importante che anche ieri Papa abbia scritto questa lettera alla consulta femminile che c'è nel Vaticano mettendo in luce aspetti femminili della fraternità che non aveva arrivato a sviluppare nell'enciclica comunque penso che sia una frase profetica che non è assolutamente compiuta e ci attende molto lavoro anche perché non devono soltanto essere le donne che difendono i diritti femminili ma tutti perché un mondo con la donna non riconosciuta è un mondo pessimo anche per i maschi non è che i maschi vivono bene in un mondo dove le donne non sono al loro posto stiamo male tutti quindi è fondamentale per tutti riconoscerli poi sì ora non credo che il Papa ci avesse in mente esattamente l'ontologia trinitaria e esattamente la spiritualità dell'unità ovviamente io credo che siano compatibili in molti passaggi la visione del Papa con la visione più cara alla nostra comunità cioè al nostro carisma credo che anche perché entrambi attingono a una base comune che è il parimonio della Chiesa il Vangelo e la Bibbia certo io quello che ho detto all'inizio non mi sono permesso di dire questo aspetto diciamo della mutualità della reciprocità della relazione che per noi è molto importante in questo testo magari è meno enfatizzato perché il Papa cioè giusto per chiarirmi io mi sono posto quella domanda per creare lo spazio per capire è talmente importante per il Papa dire quei punti su Buon Samaritano che ha trascurato altri perché ogni scelta è sempre parziale cioè io non amo assolutamente le teorie complete perché le teorie complete sono noiosissime e sono spesso ideologiche cioè ogni teoria buona è buona perché parziale e se fosse completa sarebbe inutile quindi a me piace che abbia fatto una scelta parziale perché voleva dirci qualcosa di importante che cercano di accennarvi poi l'ultimo punto diciamo non l'ultimo punto quella domanda sulla proprietà privata cioè è una cosa che a me sta molto a cuore che è ovvio che c'è tutta una complessità su questo cioè non è un caso che ci siamo dimenticati i principi della destinazione universale dei beni perché c'è anche un diritto importante abbiamo visto anche gli errori storici fatti da sistemi che hanno negato la proprietà privata che quindi però il proposito di Francesco quando i francescani per cento anni dal 1222 al 1322 hanno cercato di argomentare giuridicamente da Pietro Livi fino a Bonaventura e dopo argomentare giuridicamente la possibilità di usare i beni senza possederli l'idea del sine proprio dell'altissima povertà loro hanno detto noi vogliamo usare i beni senza diventarne padroni non vogliamo avere la proprietà dei beni che usiamo neanche il cibo neanche i vestiti perché intuivano che c'era una gratuità una castità nell'uso delle cose e noi non abbiamo seguito perché dopo cento anni il Papa disse impossibile e diede la proprietà attribuire la proprietà dei conventi e dei beni francescani ma questo tema di Francesco e sarà uno dei temi dell'economia Francesco cioè se noi oggi con i beni comuni con la terra con il pianeta con l'aria con l'acqua non ci inventiamo un modo per gestire i beni senza esserne dei predatori cioè di usarli senza divorarli noi distruggiamo il pianeta quindi questa intuizione che la proprietà privata è sussidiaria alla destinazione universale dei beni che non è un qualcosa di assoluto è fondamentale cioè da ricordare da ridire perché il mondo ha preso un'altra strada che ha funzionato abbastanza nel ventesimo secolo oggi fa fatica con i beni comuni perché i beni comuni non funzionano così se tu gestisci i beni comuni come i beni privati li distruggi quindi mi sembra altamente importante quella parte dell'incirica che ricorda questo principio antico ma sempre nuovo grazie non so se vuole aggiungere qualcosa posso provare a dire qualche cosa sulla questione della universalità diciamo che era una delle chiavi di lettura importanti di questa incirica cerco di essere proprio lapidario c'è una storia nelle cose c'è una storia nella comprensione che la Chiesa ha del patrimonio che le è stato dato è stata data la verità tutta intera in Cristo ma noi abbiamo bisogno di tanto tempo per capirla come nella vita si capiscono le cose un po' alla volta anche se già si hanno allora se noi confrontiamo la dimensione dell'universalità quindi cosa vuol dire universalità ma il Papa si rivolge solo ai cristiani o a tutti si rivolge a tutti lo chiarisce subito senza abbandonare la specificità dei cristiani perché poi dice ma noi abbiamo alimentiamo continuamente con dell'amore di Dio la vita di tutti insieme alle altre religioni cosa che sottolinea allora qui c'è una universalità chiarissima consapevole che vuol dire tante cose per esempio vi cito il numero 66 nel secondo capitolo che dice parlando di di un testo particolare questo testo ci invita a far risorgere la nostra vocazione di cittadini del nostro paese e del mondo intero costruttori del nuovo legame sociale non è che parla della nostra vocazione di cristiani cioè affida al nostro essere cittadini la costruzione di un ordine giusto quindi è completamente fuori della comunità cristiana nell'espressione concettuale lui come tale è totalmente dentro ma se confrontiamo questa enciclica con non una enciclica ma un testo di studio di joseph ratzinger che mi pare degli anni sessanta che si titolava la fraternità cristiana che lui stesso nella riedizione ha detto è un po' vecchio questo testo quel testo non usciva dalla fraternità dentro la comunità cristiana anzi ha un titolo in cui dice la vera universalità qual è non andare fuori così ma costruire la fraternità dentro la comunità poi è la chiesa che si rivolge che fa del bene agli altri ma qual è la grande differenza con francesco ma anche oggi benedetto già ratzinger direbbe cose diverse attenzione è che ci sono i tempi per queste cose qua e noi queste cose le abbiamo imparate anche seguendo chiara ci sono i tempi per comprendere adesso francesco pone che cosa sottolinea sottolinea il fatto che i doni dello spirito vanno all'umanità anche direttamente o attraverso altre religioni attraverso le vocazioni personali i compiti storici gli atti d'amore quel samaritano non sappiamo che dono ha ricevuto e tutti i samaritani di oggi questo è importante perché perché allora noi ci rendiamo conto che il kairos come dicevamo prima c'è la parola grande una delle parole che francesco dice è molto prossima a chiara c'è questo suo rivolgersi diretto all'umanità e quando lui parla di universalità non è che fa confusione lui distingue molto i diversi tipi di comunità l'enciclica è tutto un trattato sui soggetti collettivi il popolo la famiglia è spettacolare bisogna vedere la trama che scorre dentro e sarebbe un'altra conferenza a parte ma vuol dire che lui rispetta i soggetti collettivi nella loro diversità quindi per lui l'universalità il parlare all'umanità è vivere anche la sua vocazione specifica di essere dentro la chiesa e noi abbiamo avuto per esempio abbiamo sperimentato quindi l'esempio che io farei anche in un altro contesto perché si lega all'esperienza nostra diretta con Chiara che nell'ultimo periodo della sua vita quindi nella maturità della vita sua personale e del carisma in lei si è rivolta direttamente all'umanità quindi matura un dono e nella persona che ce l'ha quando è alla pienezza mostra cos'è veramente l'umanità è il destinatario come vediamo chiarissimo nel paradiso del 49 e allora Chiara però non confonde le comunità dice guarda c'è una comunità che ha il suo centro Chiara come cuore ed è l'opera che è al centro della chiesa che è al centro dell'umanità quando però Chiara raggiunge l'umanità allora ogni azione che viene compiuta avviene dentro le tre comunità quindi l'azione è fatta nel più lontano focolare che nessuno vede e che sa solo Dio e la Madonna che custodisce tutti i nostri attimi avviene nella chiesa avviene nell'umanità e questa è la cosa enorme per questo noi possiamo vivere fuori per questo il Papa dice dobbiamo andare fuori ma non perché è lui che vuole una chiesa che fa le cose ma perché è la dimensione carismatica cioè la vita dello spirito che lo porta all'uscita nei momenti di crisi si tende a stare dentro ma è normale quello che era la maturità di Chiara non era la maturità nostra che eravamo dei ragazzini presi dalla strada e che parlavamo guardando Chiara negli occhi perché lei ci teneva su e quella volta che toglieva la mano era per farci ricordare che non eravamo poi così grandi grazie al cielo ma noi come la chiesa stiamo facendo un cammino verso una maturità di corpo che i singoli raggiungono nel loro modo quindi non dobbiamo stupirci anche delle cose che magari non sono mature nella critica dentro l'enciclica il Papa fa un discorso sui soggetti collettivi ma espone un'idea di sussidiarietà molto molto inferiore a quello che lui stesso dice ma perché non c'è perfezione in questo come non c'è perfezione in qualunque opera della chiesa ma entrambi i fondatori quindi nostro signore e anche Chiara hanno raggiunto la meta quindi ce la faremo anche noi che dici Luigi? Mi piace ricordare quello che ci ricorda sempre la nostra amica Silvina dell'Argentina che nelle case ebraiche nuove si lascia sempre un po' di intonaco non finito per ricordare l'incomputezza della vita che siamo destinati a una vita imperfetta quindi la casa nuova che c'è un pezzo non perfetto mi è piaciuto molto questo e anche se posso dire una battuta su questi questi corpi intermei questi corpi soggetti collettivi me leggendo la regidica mi piaceva vedere che il Papa è un uomo della frontiera cioè che ti dice bene il noi del gruppo della comunità fiorisce quando si perde e diventa chiesa la chiesa è veramente se stessa quando si perde per l'umanità cioè è nel momento di passaggio che realizzi la tua vocazione e quindi c'è una visione molto dinamica di queste ecco perché è molto attento alle chiusure e tu tu raggiungi la tua vocazione quando quel gruppo quel gruppo diventa qualcos'altro e quindi diventa lievito diventa sale della terra forse siamo oltre il tempo dovuto grazie scusate grazie per la pazienza è la prima volta che vengono in questa sala nuova anche tu penso quindi anche lo sapendo bene no ringrazio tantissimo i relatori io penso che appunto Antonio Maria Baggio adesso parlava nel suo commento parlava di come quando ci viene tolto tutto scatta l'orizzontalità e poi ha menzionato la parte della paternità che il papa ha parlato di fratellanza ma per per mettere in evidenza anche che non c'è fratellanza se non c'è un rapporto con il padre infatti nell'enciclica lui conclude con due preghiere il papa conclude proprio con con due preghiere io penso che possiamo concludere questo nostro incontro con questa preghiera come un augurio che adesso uscendo tornando non so nelle nostre case nei nostri uffici nei nostri impegni politici economici di tutti i tipi anche di educazione possiamo veramente guardarci con questo sguardo però chiedendolo a Dio perché praticamente è lui la base di ogni rapporto che possiamo costruire su questa terra quindi facciamo questa preghiera insieme e così concludiamo Dio nostro Trinità d'amore dalla potente comunione della tua intimità divina effondi in mezzo a noi il fiume dell'amore fraterno donaci l'amore che traspariva nei gesti di Gesù nella sua famiglia di Nazareth e nella prima comunità cristiana concedi a noi cristiani di vivere il Vangelo e di riconoscere Cristo in ogni essere umano per vederlo crocifisso nelle angosce degli abbandonati e dei dimenticati di questo mondo e risorto in ogni fratello che si rialza in piedi vieni Spirito Santo mostraci la tua bellezza riflessa in tutti i popoli della terra per scoprire che tutti sono importanti che tutti sono necessari che sono volti differenti della stessa umanità amata da Dio Amen grazie grazie Antonio grazie figurati ma va là mi è tornata la nostalgia a te Angel mi è tornata la nostalgia ciao grazie ti è venuta la nostalgia Emma è sempre così grazie a te tube